Ama il Signore con tutto te stesso. Gesù gli disse ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Matteo 22, 37, 38. La cosa migliore e più importante che puoi fare da subito è amare Dio con tutto te stesso. Farlo vuol dire iniziare a ricambiare il grande amore che Lui ha per te. Romani 5, 7, 8. Farlo ti permette di entrare sin da ora nella vita eterna, alla sua presenza. Farlo è la cosa giusta da fare, perché Egli è degno. Apocalisse 5, 12. Uno dei miei canti di lode preferite è Per adorarti. Condivido con te le parole di questo canto. Mi auguro che tu oggi ne faccia la tua preghiera. Quando guardo alla tua santità, quando ammiro il tuo gran splendor, la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Quale gioia contemplare il tuo cuore, esaltare il tuo amore. La tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Io ti adoro, io ti adoro. Il vivere per me e adorare te. Io ti adoro, io ti adoro Il vivere per me è adorare te Grazie di esistere, Emanuel Go